Ragazzi, volevo condividere con voi un'esperienza Tandavcagnà Come sapete, ho aperto un ufficio eccetera 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 insomma, per farvela in breve ma già la manda Di che cosa mi devo lamentare? Prima di tutto, scusatemi se sto in t-shirt e non sto in camicia ma, come potete ben immaginare fanno camere pazze se mi mettevo la camicia non avendo la recondizione da un pomerà, facevo proprio i pungetti comunque, riflettevo su una cosa quando io ho pensato di aprire un ufficio in Italia immaginavo che quando poi mettevo online gli annunci di lavoro si sarebbero presentati fuori dall'ufficio o comunque nella casella email quindi in maniera virtuale un miliardo di persone visto che tutti quanti si lamentano che non c'è lavoro non c'è lavoro questo dicono cioè dicono che non c'è lavoro quindi mi sono detto ok offriamo lavoro alla gente che ha tanta voglia di lavorare e e facciamo tante cose buone facciamo tantissime cose belle perché una mano lava l'altra l'unione fa la forza e non esistono più le quattro stagioni e insomma avete capito quello che volevo dire ma in realtà non è così cioè oddio in parte vi spiego so so te che mi spiego pubblico un annuncio tra l'altro ve lo leggo anche perché se no a scam non sappiamo nemmeno di che cosa stiamo parlando e a lunga ah tra l'altro voglio sto come avete visto ho messo anche un quadretto sto tutto organizzato sta diventando un po' bello se ve lo faccio vedere vabbè ma tanto chi mi segue su su facebook sulla fanpage di facebook sicuramente avrà visto qualche update qualche foto e qualche mio sclero e qualche sfogo vabbè allora che cosa c'è scritto sul sito ufficiale di Living London Way allora no c'è a voi mannagge mi tirate gli scherzetti allora titolo disoccupazione giovanile Living London Way ti offre una possibilità tra Marendesi chita morta ma lasciamo per ovviamente non c'è scritto chita morta ma l'ho pensato l'ho pensato io e capirete anche il perché del chita morto oramai volano e si librano nell'aere i chita morto come se non ci fossero domani ma va bene allora che cosa scrivo perché in realtà sono io che scrive la maggior parte del tempo sul sito soprattutto poi per quanto riguarda il processo selettivo delle persone che dovranno eventualmente devo lavorare con me e quindi dico sono aperte le selezioni per l'assunzione del personale della nostra nuova sede in Italia per combattere una volta e per tutte la disoccupazione giovanile nel meridione come sapete io ho a cumere la questione del mezzogiorno noccio stiamo cercando una persona con tanto entusiasmo anche senza esperienza ma che abbia tanta voglia di lavorare e di crescere insieme a noi il candidato ideale ha un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni ed ha spiccate doti comunicative di pubbliche relazioni è importante il candidato è importante che i... un attimo lì 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 sono Antonio ciao mamma sto facendo un video sto facendo un video e sei attualmente online ma ma no non è una figura di merda peccato che non ho il il come si chiama ho il il viva voce perché sennò facevi un saluto dai comunicami che cosa devo dire che cosa devo dire sì stavo facendo un video per lamentarmi del fatto che non riesco a trovare dei collaboratori cioè mi aspettavo che ci fossero tante ma tante tante di più e invece a quanto pare la gente cade in esorde non vuoi faticare da parte di mamma Giulia dici dici cosa dice mamma Giulia non lamentatevi non lamentatevi perché siete in esorde non lamentatevi se invece non avete i soldi vedete faticare cioè fate qualcosa una prospettiva di futuro economico non indifferente a livello internazionale mamma mi fa pubblicità mia mamma ok mamma mamma ok perfetto solo le persone le persone intuiti le persone ho capito mamma le persone intuitive e capaci riescono a capire il reale valore di questa offerta di lavoro ok però devo staccare mamma mamma devo staccare mamma devo staccare e più tardi e presto vabbè ciao mamma ciao 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 mi sei voleva te già al video che qualcuno mi stava telefonando per non lo so per dire senti guarda ho mille milioni di miliardi e ti voglio pagare no vabbè comunque stanno dicendo quindi il candidato ideale ha un'età compresa tra 18 e 25 anni ed ha spiccate doti comunicative e relazionali questo perché perché se non si è parla almeno con me non si può fatica perché è tutto bla bla dobbiamo comunicare con le persone con il computer se sei una persona monosillabica non fa per te questo lavoro mi dispiace devi essere esaustivo nelle risposte devi avere un come si dice un customer care che sia a livelli sconvolgentment sconvolgenti quindi questa è una cosa importantissima tra l'altro quando parlo dell'entusiasmo e che cazzo è sin giusta l'entusiasmo tra 18 e 25 anni un altro poi ne faccio 30 dall'anno prossimo che cazzo comunque è importante che il candidato conosca almeno una lingua straniera sono stato cazziato da alcune persone perché ritenivano i miei criteri di ricerca troppo stretti troppo stringenti troppo difficili perché avevo chiesto una persona che parlasse almeno due lingue in maniera fluente quindi ho dovuto diciamo abbassare un po' il tiro e quindi adesso richiedo solo una lingua straniera però che sia parlata bene e vi ricordo cari ragazzi me che sono laureati in lingue quindi un ricidiscimità di sgamo in un istante a tal proposito mi racconto che cosa mi è successo è venuta una ragazza una ragazza che mi aveva molto colpito perché nel suo curriculum c'era scritto che parlava francese inglese tedesco spagnolo e servo e servo dico cazzarola questa è bella come cosa il servo una lingua diversa la chiamo viene a parte viene in ritardo e dovete sapere che io sono uno scassacazzo perché essendo una persona tendenzialmente ansiosa non di quelle ansiose così però una persona a cui piace essere preciso arrivo sempre dieci minuti in anticipo mai dieci minuti in ritardo questa qui si presenta con venti minuti in ritardo a un colloquio quindi già immaginate che impressione me l'ha fatto comunque iniziamo a parlare l'inglese non era così quando poi inizia a parlare cioè inizia a parlare dico ok va bene fammi capire un attimo il servo cioè che è così e lei non sapeva dire nemmeno il il book is on the table the book is on the table il libro è sul sul tavolo non lo sapeva ti dico sconcertato proprio avendo visto che comunque l'inglese non lo parlava bene il francese io non lo conosco ma non mi sembrava fosse particolarmente portata mi dico scusami ma com'è che è studiata il serbo e lei conosce e mi dice no perché sono andata quattro giorni o cinque giorni magari una settimana in Serbia con i miei genitori 4-5 anni fa e allora a questo punto tutto quando avessero parlato 10 milioni di lingue infatti mi sono cascate le palle a terra e vabbè vi volevo vi volevo comunicare questa cosa vabbè proseguiamo con l'annuncio quindi è importante che il candidato ho scutazzato è importante che il candidato conosca almeno una lingua straniera la conoscenza del computer e dei principali applicativi Windows fondamentale se non sai usare Outlook se non sai usare Word se non sai usare Excel e tra l'altro non battiggiate perché il 99% delle persone che io ho conosciuto non lo sa utilizzare Excel ma questo non è cioè non è che se non sapete usare Excel non vi potete candidare però almeno non dite che sapete utilizzare Excel cioè non dite le cagate perché mi fai un freddo perché io cioè ho imparato le cose e sinceramente adesso penso ancora di non saperle però se viene qualcuno che le sa meno di me le cose e mi dice che le sa più di me vado in frega proprio mi arrabbio ma va bene comunque poi dice se ti senti pronto e credi di fare il nostro caso non esitare di inviare un'email con un Sibina legato in lettera motivazionale è inutile che vi sto a dire a che cosa sembra la lettera motivazionale a directonschiocciolalivinonove.com oppure a compilare il form che è appunto su questa pagina poi sentite qui gli orari di ufficio sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 che è in pratica un orario meraviglioso meraviglioso dove ci troviamo ci troviamo a Don Renunziata vicino Pompei poi va azzeccata 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 a Pompei vicino in pratica gli Scavia a due minuti dagli Scavia di che cosa si occuperà la risorsa di ampliare il mercato di inferenza se tu riesceri se è capace o va bene anche al settore italiano ma guaggiù devi essere capace perché i soldi dello stipendio non vengono dalle tasche degli imprenditori ma da quello che ci fai guadagnare e quindi devi essere la persona portata da un punto di vista commerciale quindi sviluppare nuovi approcci marketing sono aperto a 360 gradi per qualsiasi proposta per allargare l'inferenza dell'attività che sto svolgendo da un punto di vista di marketing e poi si deve occupare di social e media managing se sei una persona che tende tre amici su facebook e non sei una persona alquanto socievole e sociale e non sa utilizzare facebook twitter pinterest linkedin insomma i social network più come un instagram e non la dimestichezza con queste cose e soprattutto anche con youtube perché ragazzi sto cercando anche delle persone che nel meanwhile mi aiutino a fare nuovi video per tutti quanti voi e in realtà questo è il motivo per il quale sto facendo luoghi video senza tagli senza questo senza quell'altro uno perché me l'hanno chiesto e due perché sto incasinatissimo quindi appena tengo un po' di tempo faccio il video e parliamo e ciaccheremo poi di che cosa si deve occupare di seo che è search engine optimization se non sai che cos'è il seo guai giù almeno abbi l'umiltà di dire no non so cosa se è il seo che cos'è il seo però sono abbastanza competente in informatica o almeno spero che almeno ti si informate che cos'è un po' di seo fai un re che sai almeno che cos'è il seo e dici che non lo sai fare e poi ti insegno io ti insegno io e impariamo insieme perché voi io sto imparando sto imparando insieme a un altro collaboratore quindi stiamo imparando però cazzarola certo se conosci il seo sei il benvenuto e poi acquisizione e cura del cliente come ovvio che sia rispondere alle mail scrittura creativa ed informativa per blog di livello numeri abbiamo bisogno di persone che sappiano scrivere bene ho bisogno di persone che sappiano scrivere bene e che siano delle persone creative ecco e poi si ricollega anche ai video di youtube e poi che siano capaci di tradurre tradurre almeno dall'inglese o dalla lingua per la quale si candidano se poi sapete due lingue vi voglio bene proprio e poi insomma ci sta sotto il form dove si inserisce il nome e cognome le mail il numero cellulare la lingua straniera che si conosce sia lì che il curriculum è bla 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 allora io l'ho condiviso l'ho ricondiviso l'ho ricondiviso l'ho ricondiviso allora a parte questa del serbo poi viene un'altra che si è aspettato perché prima avevamo un ufficio in un posto molto angusto devo essere sincero ma era l'inizio quello che io stavamo ristrutturando questo questo in pratica era uno scantinato è quello che io dicevo volevo che le persone venissero prima della ristrutturazione perché volevo che capissero da dove si parte e dove poi ci si ritrova e si arriva e venivano queste persone senza competenze lavorative senza competenze accademiche e con l'arroganza di volere anche una struttura che era meravigliosa magari un posto a tempo indeterminato così alla prima senza manco magari una prova o senza non lo so cioè senza proprio n'arte né parte no è un'agenda così e pretende ma stanno pazziando ma ti persino poco a capo tutto quanto vai giù cioè non lo so allora questo è il ragionamento assurdo andate all'ombra a punire i cessi andate all'ombra a punire i cessi poi invece se lo dovete fare ipoteticamente qua in Italia non lo fate con questo non voglio dire né che non dovete andare all'ombra a punire i cessi né che dovete venire per forza a punire i cessi qui cose che non dovete fare anche perché questo è un lavoro difficile ma ve lo devo fare vedere come sta venendo tra l'altro che sta venendo carino vedete poi lì ci ho fatto la mia opera d'arte qui ci abbiamo attaccato vabbè lì qui ci sono questo è il contenitore dove si mettono tutte le chiavi degli appartamenti e vabbè lì su e poi lì c'è un corridoio lì dietro vabbè ma voi già conoscete la struttura ovviamente stanno in fase di ristrutturazione ma però c'è quello che io non riesco a capire ragazzi ma com'è sto fatto cioè allora io io ho una qualsiasi attraversione insomma un imprenditore cerca di darvi la possibilità di crescere insieme all'azienda ok è certo un new project un come si dice un join adventure però che cazzo che cazzo cioè è assurdo è assurdo è sconvolgente e facite solo chiacchiere fate solo chiacchiere comunque se siete interessati ragazzi a a collaborare con me inviate un'email a directors chioccio vabbè lo dico in italiano no directors chiocciola livingloanoway.com non dite cagate non inventate e screzzate così tanto diciamo e e poi non conviene a nessuno di tutti e due nessuno di tutti e due perché facciamo cioè tu fai una figura in merda e a me fai perdere il tempo e il denaro che dire ragazzi cioè quindi questo è uno sfogo cioè in una giocatrice ma in Italia ci sono i soldi e tutti si lamentano e non è uno vero che ha gente che in realtà non vogliono lavorare oppure sono io che sto chiedendo l'impossibile cioè sto chiedendo delle persone che sappiano scrivere bene che siano customer oriented che parli in una lingua straniera che utilizzino il computer cioè ma ci troviamo nel 2015 siamo nel 2015 ci troviamo nel 2015 ma vale un minimo cioè mi sembra veramente il minimo vabbè da nocciolino 24 è tutto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi